Anche quest'anno in programma il convegno nel cuore del Tricolle organizzato dal primario del reparto di cardiologia Gennaro Bellizzi. Si tratta di una due giorni divisa in due sessioni, la prima è medica e la seconda è infermieristica. Entrambe le giornate rappresentano un fondamentale momento di confronto e di approfondimento di tematiche cardiovascolari che vanno sempre più evolvendosi e sulla giusta prevenzione. Anche quest'anno si è cercato di privilegiare alcuni argomenti di particolare impatto nella pratica medica quotidiana e quindi avremo ancora una volta degli illustri ospiti tra i relatori. Voglio sottolineare la presenza del dottore Marino Scherillo che è stato per anni presidente nazionale dell'AMCO, del presidente regionale dell'AMCO, il dottore Rosario Sauro e soprattutto direi del professore Gianfranco Sinagra che è il direttore della cardiologia universitaria di Trieste ed è soprattutto uno dei maggiori esperti, non solo italiani, nel campo dello scompenso cardiaco. Quindi ancora una volta i colleghi che parteciperanno a questo evento avranno modo di ascoltare alcune notizie molto nuove, molto recenti e direi particolarmente importanti nella pratica medica quotidiana. Anche quest'anno si prevedono due sessioni, una medica e una infermieristica. Che cosa significa? Significa che noi ci impegniamo, e non è la prima volta che lo facciamo, per garantire una formazione non solo ai colleghi medici e questo è materiale di frequente riscontro ovviamente in tutti i convegni, ma cerchiamo anche di riconoscere la dignità professionale agli infermieri che svolgono un lavoro preziosissimo ed insostituibile e che viceversa hanno un numero decisamente minore di occasioni di incontro, di dibattito e di formazione. La malattia cardiovascolare è passato e futuro. Quali saranno le novità, quali sono le novità e soprattutto si discuterà anche di prevenzione? Sì, si discuterà di prevenzione. È chiaro che per trattare tutti gli argomenti cardiologici che riguardano un poco tutta la popolazione avremmo dovuto impegnare una settimana intera. Io credo che sarà molto importante l'ascolto della lettura che farà il professore Sinagra perché proprio nel campo dello scompenso cardiaco è recente l'introduzione nel campo della farmacologia di questa patologia di un nuovo farmaco che sembrerebbe garantire risultati addirittura straordinari rispetto a quelli che pure hanno migliorato tantissimo il destino di questi soggetti. Quindi sarà molto interessante sapere proprio dalla bocca al professore Sinagra che cosa c'è di nuovo in questo settore. È chiaro che la cardiologia ha fatto dei passi avanti da gigante. Siamo passati da situazioni nelle quali sostanzialmente il paziente quando anche fosse sopravvissuto a un evento acuto era condannato di fatto ad una condizione di invalidità. Oggi tutta questa realtà è stata completamente capovolta e quindi dobbiamo dire con molto compiacimento che oggi il destino del paziente cardiopatico è completamente diverso da quello di una quindicina, ventina di anni orsuno. L'appuntamento è dunque venerdì e sabato. Sì, l'appuntamento è venerdì e sabato e io mi auguro che tutta la classe dei colleghi medici voglia essere presente in maniera massiccia perché credo effettivamente che offriremo una grossa quantità di materiale sulla quale discutere ed è anche un modo, io ritengo, di sostenere un reparto che sta cercando di fare il possibile per garantire a questa popolazione prestazioni di alto profilo qualitativo nell'interesse della propria salute. Grazie a tutti.